Ragazzi Andrea era uno del video del Stellaronda Iro Ragazzi per chi non lo conosce lui è Andrea, la nostra guida ufficiale Carbonara Questo gemellaggio dovevamo farlo nel Stellaronda Carbonaro però la rive non ce l'ha permesso e quindi siamo qui Come tutti quanti ben riconoscerete questa è una pietra del Vesuvio che abbiamo portato nelle Dolomiti le montagne più belle del mondo che scambierò con Andrea con una bella pietra Dolomia e io con piacere con il gruppo Carbonaro che mi ha fatto conoscere un sentiero che io qua non conoscevo e quindi c'è questo gemellaggio scambio di pietra questa la porteremo a casa e rimarrà tra sempre nei nostri ricordi questa la porteremo sul Vesuvio ciao ragazzi alla prossima saluto dalle Dolomiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti